Ciao, grazie di essere qui con me oggi Oggi facciamo un nuovo gameplay smr con il gioco del momento che è Hogwarts Legacy Adesso vi metterò anche lo schermo della play, ci giocherò sulla play con il joystick E spero faccio anche dei bei suoni E sono molto funzionata di fare questo gameplay, ne ho fatti solo due e vi sono piaciuti tanto E' un video un po' diverso E se sentite questo rumore sottofondo è la play stessa, quindi non ci posso fare inutile Anche se secondo me non si sente neanche troppo Quindi senza ulteriori chiacchiere io direi di cominciare E se vi piace questa tipologia di video, se vi piace questo video Ricordatevi di mettere mi piace e di commentare Perché per me e per Youtube è importantissimo Cominciamo Ora oggi vi porto a Osmate E ci sono un sacco di ambience sound E di voci Guardiamo se Non lo so fare Allora Oggi vi porto in giro per Osmate Guardate qua che meraviglia E questo gioco consiste nel Consiste nel fatto che tu sei un giocatore Tu sei uno studente di Hogwarts Questa sono io Anche se non ci assomiglio molto E in questo momento io devo eseguire Delle commissioni Per cominciare bene le mie attività È proprio l'inizio E volevo farvi fare un giro per Osmate Per Osmate Non so dire Perché secondo me è molto carino È veramente bellissima la grafica E sì Prima tappa andiamo da Ollivander Che è successo? Salterò molti Molte interazioni con i personaggi Perché non sono ASMR Allora scegliamo la pacchetta Intagliata Marrone caldo Corda del cuore di drago Rigida 14 pollici Vediamo Oppure posso avere Classica grigia Spirare dolce Ma non è chiaro No Non mi piace Questa qui Questa tipo quella di silente Naturale grigio Molto bella Quindi sono indecisa fra Questa classica grigia No Insomma naturale grigio Ok Selezione Poi Tipo di legno Ciliegio Scusate Ami Ok Ok lunghezza 12 polli E mezzo Sono in caso Tipo di legno Acero Mi piace Flessibilità No Facciamo C'è Ami Che si sta Lavando la Tampina Solida Grazie Ok Adesso visitiamo un pochino Ollivander Vi ho messo proprio a smith Per questo Perché secondo me è bellissimo È visitare I posti dentro Non penso di poter andare Non penso di poter andare Troppo in giro Però vi faccio vedere un attimo Dentro Con tutte le pacchette Bellissimo Tra l'altro qui con uno screen Cioè puoi farci quasi un roll Un crease screen Guardate qui che meraviglia Pazzesco Bellissimo Ok Guardiamo se c'è qualcosa Con cui interagire Qui non tanto Devo dire Niente Andiamo Allora adesso Allora 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 Non so dove sto Non sottomente Allora Entriamo in questo negozio No Non posso Flutes Flutes Ok Qui cosa vengono E premendo E premendo appunto Questo tasto posso Interagire con l'oggetto Che carino questo posto Ma cos'è Perché posso mangiare gratis Inaspettato Inaspettato Che bello Davvero raga sto posto Che cos'è Abbendo lo strumento Immagino Ok Guardiamo qui Ah qui ci sono altri clienti Non ci posso Che bello Questo mi ricorda Devo cercare qualcosa Occhiali Esagonali Oro Che io Ste cose Non ricapisco Scusate Si esce di qua Ok Che bello Mangiamo un altro muffin E i mouth sounds Ti amo Mi sono inclusi Nel video Scusate È proprio qui Che mi rompe Adoro Ok Usciamo Adesso Andiamo a cercare Questi posti Dobbiamo andare a prendere Degli ingredienti Per delle pozioni E visitare la rappa magica Non so perché Solo che non li trovo Ah dopo andiamo anche da zonco Guardiamo di qua Scusi Allora No qui finisce Dove devo andare? Che bello Comunque guardate lì in fondo c'è Ours Mamma mia Che bellissimo Questo gioco Posso dire Veramente speciale Veramente Veramente Speciale E Ok Che cosa sto facendo esattamente Va bene Comunque Mi sono persa Scusate Non ho molta praticità Col joystick Allora Mi piace quello che dice la gente Adoro Sentiamo cosa dicono loro Si può sapere Allora qui c'è Zoncos Ci entriamo dopo Io ho metto 10 oggi E' entrata ieri Bellissimo E Non capisco se sto uscendo da Osmed E comunque è tipo il paesino più carino Cioè Vi prego Ditemi che c'è qualcosa di simile E ditemi che posso visitarlo Nella vita reale Che sto facendo Dove sono finita? Yeah Escono le fusa Da qui Adoro Guardiamo C'è qualcosa che posso fare? No? Non so che posto sia questa cosa venna Però Bellissimo Guardiamo Qui c'è qualcosa Scusate Ok Ma perché posso andare troppo ancora? Le sentite? Ok Questo invece cos'è? Sorry Tu cosa mi vendi? Tu mi spedisci All'ufficio postale Ok Guardiamolo Che figato Scusate Wow Ok Vi giuro È bellissimo Vi giuro È stupendo Giocarci Anche solo per vedere tutto Mamma mia Che meraviglia Ve lo giuro Qui cosa fanno? Qui cosa fanno? Ah qui Stoffe Adoro Guardate che meraviglia Ok Adesso è decisamente ora Di trovare i posti Allora Sono entrata nella mappa Ci si Io entro con questo tastino E io devo andare Accidenti Alle pozioni Non le vedo Non le vedo E dove sarebbero? Non ci sono andata Cosa sto posto? Dolci Oh mio Dio Ma voi venite con Sella bellezza Non ce la faccio Wow Cioè praticamente Vi sto facendo fare Un tour Virtuale Di Osk 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 Oddio Che meraviglia No Non capite La meraviglia Cioè Spero La capiate E' Veramente Veramente Bellissimo Poter visitare Tutti questi posti Di Harry Potter E Ok Ho sputato Come un drago Stavo dicendo E' bellissimo Poter visitare Tutti questi posti In prima persona No Non posso Potrò solo Più avanti Nel gioco Ma qui Ho uno cibo Gratis Ho capito Sempre Wow Bellissimo Ma come si chiamava Milania Non mi ricordo Devo essere onestissima Perché qui In inglese Allora Riproviamo Con la mappa Allora Io dove sono? Io sono qui Devo andare qui? Ok Facciamo Imposta Tappa Così Me lo dovrebbe dare Indietro Ok Adesso Mi da Oh Finalmente Ho impostato Nella mappa Che mi porti Dalle pozioni Se non ci sarei mai Arrivata Mamma mia Guardate Che bello Scusate Sono ripetitiva Ma è meraviglioso Scusate Toglietevi Ops Devo scendere E devo andar di qua Ancora gattino Questo qui Sembra un po' Arrabbiata Ci sono Quasi E questo Grazie Grazie Allora Devo guardare Ricette Per pozini Che creano Stato La pelle Proteggendo Dei danni Ok Allora Queste due Che sto indicando Sono gratis E sono quelle Che devo Prendere Non ho tutti Sti soldi Amo Mi piacerebbe Ma La mia materia Preferita Cioè quella Che mi ispirava Di più Questo posto È bellissimo Aiuto Posso sentire Un pochino Il fuoco Scusate Ma Se si stessero Di negozi Del genere Davvero Sapete Che meraviglia Io sarei Sempre in giro Mamma mia Capello Ok Abbiamo Preso Le pozioni Ce l'ho Fatta Wow Comunque Immagino Che Come si chiamano Le Highlands In Inghilterra Siano più o meno Così Se sono così Se qualcuno Di voi Cioè mi è stato Ditemelo Che corro Corro Subito Ok Allora Adesso Devo cercare La rappa Magica Che ha Questo segno Del grano Guardiamo Qui Ah Questo qui Non l'avevo mai trovato Ok Quindi Impostami La tappa Indietro Ok Adesso posso Quelle Sicunque Era impossibile Senza Andiamo Da questa Rapa Scusate Cos'ho fatto Ho sbloccato Un po' E qui E qui Devo fare il giro Ok Scusate Scusate Devo prendere Confidenza Quando No no Sono entrata Nel posto Giusto Ok Ok Allora Continuiamo Topini Scusate Scusate Non sono Il massimo Con La camminata Sorry Allora Sì no Ho sbagliato Completamente Posto Come ho fatto E questo Ok Questo Penso Sì L'arapa Magica Buongiorno Ok Allora Avrò tolto La parte Della nostra Conversazione Perché Non è ASMR Ma Mi ha detto Di lui Appunto Coltivo Tutte queste cose Da sole Tipo Mi sembra L'ortofrutta Adoro E devo Prendere I semi Di Dittamo Mamma mia Ma che bello Scusate È il mio Parodiso L'ortofrutta Housemate C'è qualcosa Di più Bello Scusate Qui c'è L'orto Adoro Ok Le zucche Ah E adesso Devo Ritornare Da Sebastian In piazza Ma prima In realtà Volevo Volevo Andare Volevo Portarvi No No Volevo Portarvi Ah Milani Si chiama No Volevo Portarvi Ai Tre manici Di scopa E Però Ho sbagliato Aspettate Dicevo Voglio Portarvi Ai tre manici Di scopa Quindi Metto Imposto La tappa Ok No D'altra parte Ok Adesso Prima di raggiungere Il mio compagno Di scuola In piazza Volevo Ops Volevo Portarvi Ai tre manici Di scopa Mamma quanta energia Che ho Dovessi correre Come ha corso Il mio personaggio Oggi Sarei In verità C'è la mia Che sta cercando Di capire Ogni parola Che dico Per capire Se c'è anche La parola Che vorrei C'è la parola Poppa Ma non posso dirla E questo Guardate qua Scusate Senta un po' Il fuoco E questi Sono I tre manici Di scopa Un po' vuoti Devo dire adesso Erano più pieni ieri Ok Ho appena bevuto Una burro birra Così a casa Ma io sto bevendo Tutte le burro birre Che ci sono Ma com'è sta cosa Bello Anche io Ok Ti giuro Almeno Sto dicendo niente Non so se Lo riuscite a vedere No Ok niente Era più carino L'altro giorno Forse perché C'era un po' Più di gente Forse ho sbagliato Volevo andare Da qualche parte Comunque Raggiungiamo Sebastian Raggiungiamo Sebastian Manca poco Eccolo qua Ciao Sebi Ok Allora Il video Finisce qui Adesso Dovrei Combattere Ma Non lo so ancora Tanto fare Io volevo Solo farvi fare Un giro A Osmit All'osk Che problema Osmit Rilassante Fare un piccolo Semplice Gameplay Su Hogwarts Legacy Spero davvero Vi sia piaciuto Anche se il video È molto semplice E Vi mando un bacione Non vi do la buona Perché Non mi piace Qui Non sono nel mio studio Ma sono nel mio salotto Vi ringrazio Per aver guardato Questo video Fin qui Vi mando un bacione Che li spera Spera Spera